122esima puntata dei rompi balle show olè 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 i rompi balle show olè 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 i rompi balle show olè 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 i rompi balle show allora ragazzi adesso vi racconto la mia grande disavventura sì 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 ero impegnato nella tesissima finale di champions bianchino bar league ecco io facevo parte del bar patacca e giocavo contro il bar carcola eravamo 0 a 0 ecco vi dico subito che una pretesa che hanno i tifosi del bar patacca è quella che i propri giocatori devono fare solamente error o altrimenti potrebbero arrabbiarsi ecco eravamo nei minuti di recupero a un certo punto la palla arriva raso terra nel regno di rigore io sto per calciare inciampo nel mio piede cado rotolo sbatto contro il palo ritorno indietro tocco il pallone col piede gol non è stato un bel gol i tifosi non hanno preso tanto bene hanno iniziato a invadere il campo armati di spranghe di badini di vanghe e triche ballache di fuggili di pistole e tutti si sono schiagliati contro di me anche i giocatori della mia squadra e quelli dell'altra squadra sono armati di caro amato hanno iniziato a rincorrere a spararmi dietro e io mi son detto sergio qua te ne trovi una delle tue oppure veramente son chezze da cagher ecco come dicono in eviglia allora a un certo punto ho iniziato a correre tipo forest, forest go, forest go, forest gallop si si esatto come lui c'è stato un momento che sono arrivato dove c'era un ponte di ferro sopra un fiume e allora lì mi son detto sergio qua i 4000 tifosi stanno arrivando deve inventare una delle tue allora ho fatto così c'è campo non è c'è campo non è c'è campo non è crio si si crio si si crio si 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 allora la mia crio ha risposto subito sergio è partita la maletta ha messo il turbo post prima di entrare in acqua si è trasformata nel turbo crio motoscafo di salvataggio è entrata in acqua e io automaticamente mi sono buttato dal ponte e 4000 tifosi facevo così ti prenderemo ti prenderemo e io son partito a manetta con la mia motoscafo e li ho fregati si 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 e li ho fregati e anche a caso non se ne sono ancora corti di nulla perché dopo tre giorni su dozzanda lingua e calè sono ancora la quarta d'ora del primo tempo ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao